Da quest'ultima edizione di Yab Forum è emerso che gli investimenti in pubblicità online stanno crescendo, è un segnale positivo per tutto il mercato? Assolutamente, è un segnale molto positivo, crediamo che ci siano degli elementi molto positivi nel mercato del digital advertising. Primo fra tutti anche l'affluenza di questo Yab Forum ci fa pensare a un grande interesse da parte del mercato sul digital advertising e crediamo che ci siano dei driver di crescita molto importanti. Nello specifico nell'industria dell'inimage advertising in cui noi operiamo come Atomic Ad, crediamo che ci sia un estremo interesse e quindi siamo molto ottimisti da questo punto di vista. Atomic Ad è una realtà nata da poco, relativamente giovane, cosa fate di preciso? Noi appunto operiamo nell'inimage advertising, coniughiamo delle soluzioni di intelligenza artificiale applicate appunto al mondo dell'inimage advertising. Quindi sostanzialmente ci occupiamo di analizzare attraverso una tecnologia proprietaria le immagini editoriali presenti all'interno di un network di editori partner e contestualmente veicolare dei messaggi pubblicitari quanto più contestualizzati, rilevanti per gli utenti che appunto offriscono il contenuto. Come si è chiuso questo 2017 per Atomic Ad e che prospettive avete per l'anno che verrà? Molto bene, si è chiuso molto bene, vediamo un 2018 molto importante con una roadmap importante in cui prevederemo appunto degli sviluppi dal punto di vista della capacità di targeting legato all'intelligenza artificiale dall'altra parte il rilascio di nuove soluzioni pubblicitarie, sempre lì nel nostro posizionamento quindi estremamente rilevanti per gli utenti e allo stesso tempo che garantiscono una user experience positiva.